Come vedi la tua azienda oggi? E come te la immagini invece nel prossimo futuro? Non frenarti dal sognare un grande sviluppo per lei. Servono solo gli strumenti finanziari adatti e un partner che ti segua lungo il processo di crescita. L'ideale in questi casi? Le soluzioni di finanza agevolata offerte da Sfera Servizi, società di analisi e gestione finanziaria che da oltre 25 anni è attiva sull'intero territorio italiano al servizio di imprese e privati. Operiamo seguendo tre step chiave. Ti ascoltiamo per comprendere esigenze e obiettivi della tua azienda. Facciamo le opportune analisi per verificare la presenza di bandi di finanziamento compatibili. Infine, progettiamo il tuo investimento. Da questo momento faremo da interfaccia tra te e l'enterogatore. Penseremo noi a tutto. Attenzione! Molte società ti conducono all'ottenimento del decreto provvisorio e poi spariscono nel nulla. Il problema? La fase difficile inizia adesso. Ottenere il collaudo è il saldo finale del finanziamento. Peccato che l'azienda lo scopre quando ormai si ritrova sola, senza sapere che direzione prendere. Ecco, in quanto tuo partner, Sfera Servizi non svanisce durante il percorso. Tutt'altro. Procederemo insieme fino al traguardo prefissato, l'ottenimento del collaudo e del saldo finale. Importante! Non accettiamo tutti gli incarichi, ma solo quelli per i quali esistono basi reali per ottenere i contributi. Ci teniamo a non farti spendere tempo e denaro. E già, perché le nostre soluzioni non sono frutto di interpretazioni soggettive o astratte. Tutto il contrario. Derivano da scientifiche corrette analisi della tua azienda, supportate da competenza, professionalità ed esperienza. Desideri scoprire se esiste un bando di finanziamento e contributi per la tua azienda? Richiedici una consulenza gratuita. Ti sveleremo se hai tutte le condizioni per parteciparvi.